Assessore, arriva questo riconoscimento per il Teatro Pirandello, lei ha già espresso le sue felicitazioni per questo traguardo raggiunto. Cosa vuol dire questo riconoscimento che avviene direttamente dal Ministero? Non possiamo che essere felici ed orgogliosi perché il nostro teatro è stato inserito all'interno di questo disegno di legge, di questa proposta che vedeva riconosciuti diversi teatri nazionali come monumento nazionale appunto anche della regione siciliana. Qualche settimana fa e di qualche settimana fa la notizia che avevamo letto sui giornali, insomma dei lavori alla Camera, quindi ci siamo assolutamente subito fatti avanti insieme all'On. Pisano che è portato da Grigentino che rappresenta il Governo alla Camera dei Deputati. Abbiamo subito prodotto quei documenti per far sì che il teatro venisse anche inserito il Teatro Pirandello all'interno di questo disegno, all'interno di questo riconoscimento. Chiaro, sono stati inseriti anche altri teatri della provincia e questo ci riempie d'orgoglio perché a Grigento, lo ribadiamo, con Capitale e Terno della Cultura ci fa da traino anche per la provincia e per l'intera regione siciliana. Quindi adesso ovviamente il testo passerà al Senato, ma crediamo che non ci saranno assolutamente intoppi, quindi un riconoscimento importante che vedrà appunto il teatro che peraltro fa il compleanno proprio nei prossimi giorni, 144 anni dalla sua apertura, quindi diciamo un momento importantissimo che cade a pennello, specialmente in vista di Grigento, Capitale e Terno della Cultura. Ecco, possiamo fare un bilancio di questa attività teatrale di quest'anno? Allora quest'anno, come già la precedente stagione, la stagione sta andando molto bene, gli abbonati ci sono, quindi il teatro è quasi sempre sold out, a parte qualche spettacolo chiaramente di nicchia che è magari un po' più impegnativo, però registriamo quasi sempre ormai sold out con artisti, autori che calcano il nostro teatro ormai di grandissimo livello. Ricordiamo che il nostro teatro l'anno scorso è stato riconosciuto anche come teatro nazionale di produzione, quindi attinge a fondi ancora maggiori, quindi una produzione teatrale propria del teatro Pirandello che gira per tutta l'Italia, quindi un grande orgoglio è il nostro gioiello culturale della nostra città che è sempre più in crescita e oggi ancora di più con questo riconoscimento. riconoscimento